Matteo Manuccelli, a traguardo della terza tappa del Giro di Turchia, oggi una buona volata per te? Sì, oggi una volata un po' pazza, c'era il vento in faccia, quindi tutti hanno aspettato a partire, la volta si stava bene, e niente, è arrivato a un sesto posto, qua a fare le volate un po' come vincere la lotteria, quindi avvenne così, l'importante è esserci, adesso vediamo le prossime tappe. Ecco, l'ultimo chilometro, con questo vento così, si trattava tutto di aspettare il momento giusto? Sì, nessuna squadra prende in mano l'iniziatura fino all'ultimo chilometro, e dopo quando le squadre arrivano con 6-7 corridori all'ultimo chilometro, ci sono 40 corridori davanti, e è difficile anche trovare lo spazio, quindi bisogna avere le gambe, ma soprattutto bisogna avere molta fortuna. Grazie mille, in bocca al lupo per le prossime. Crepi! Ciao!